Dottore Melia, a breve inizia questa sua nuova esperienza, da direttore dell'ente parco, adesso passa ai vertici della soprintendenza. Sì, è un ritorno in soprintendenza, in quanto io provengo dalla soprintendenza, prima di essere nominato direttore del parco, ero stato dirigente per lunghi anni della soprintendenza. Certo, ci torno volentieri, visto che non potevo più rimanere al parco, perché il parco ci sono operato per tanti anni, è una struttura che è stata creata da me e da tutti i colleghi che hanno lavorato con me in tutti questi anni. E quindi il parco è stata un'esperienza certamente positiva e gratificante, devo dire. Quindi è un ritorno in soprintendenza, spero di essere all'altezza, di affrontare i numerosi problemi che ci sono. È una soprintendenza difficile, quella di Agrigento, abbastanza complessa, ma in compenso c'è un personale che io conosco molto bene, con il quale ci sono ottimi rapporti. L'ufficializzazione è arrivata da poche ore, lascia la direzione del Museo Archeologico di Agrigento, e da un incarico prestigioso passa a un altro incarico abbastanza prestigioso, che è appunto quello di direttore dell'ente parco Valle dei Templi. Sì, ancora siamo in attesa di ricevere i decreti formali di nomina, però è certo perché c'è un comunicato ufficiale del nostro Assessato regionale benicoltore di intera siciliana, appunto, che ha definito il nuovo organigramma per quanto riguarda tutti i musei, le sovintendenze e i parchi della Sicilia. La nomina mi è arrivata improvvisa, diciamo, mi ha creato anche, mi crea imparazzo, diciamo, anche psicologico. Se si pensa che io fra otto mesi andrò in pensione. Però in un lasso di tempo così breve, evidentemente non ci sono grandi prospettive. Io non voglio essere un direttore di passaggio, però il tempo che mi resta nell'amministrazione esigua. Bisogna pure pigliare consapevolezza dei problemi, conoscere anche il tipo di amministrazione che è diversa da quella del parco, rispetto a tutte le altre strutture, diciamo, regionali del nostro bene culturale. Quindi, evidentemente, io non so quello che potrò fare, a meno che l'amministrazione regionale non mi assicuri una proroga, mi consenta di avere almeno altri due anni di servizio, in modo da poter maturare altre cose che si possono fare.